Fino ad ora dal package MaterialDart abbiamo solo pizzicato qualche cosa. D'oggi puntiamo un pochino più in alto e al metodo build della nostra app iniziamo col far restituire il germe di un'app completa, questo oggetto di classe MaterialApp, sempre definito ovviamente in Material.Dart. Questo codice però non è ancora funzionante perché è necessario specificare alcune cosette qui come parametri al costruttore di MaterialApp. Diciamo almeno un titolo, grande sforzo di fantasia, un tema che noi per il momento sottoutilizzeremo andando a fissare semplicemente uno schema di colori. Anche se qui lo stiamo utilizzando a livello minimale, un tema rappresenta un insieme coordinato di schemi di colori, fondi caratteri, icone e permetterà alla nostra app di avere un aspetto consistente. Il terzo parametro, l'ultimo che andremo a indicare per il momento, è la root della nostra app. Infatti avremo anche il supporto per la navigazione tra le pagine della nostra app. E qui stiamo appunto specificando che il punto di partenza è questo login page che poi andremo a definire. Stiamo perciò indicando un oggetto di classe login page. Anche la classe login page estende stateless widget. Mi faccio aiutare con control punto per far generare il solito metodo build da implementare. E anche qui dovremo far restituire un widget, solo che non faremo riferimento a quelli visti fino ad ora, che poi torneranno all'interno, ma a un qualche cosa che corrisponde a uno scheletro pur vuoto, ma fatto e finito di un'intera pagina della app. Scaffold. Con Scaffold come contenitore potremo definire una barra del titolo, il contenuto della pagina, bottone di navigazione. Per il momento limitiamoci a una barra dell'applicazione e al contenuto, al body, il cui valore è appunto un oggetto di classe app bar, per la quale andremo a specificare come titolo. Questo perché poi andremo ad aggiungere alcuni particolari in questo nuovo contesto, ma sempre relativi al posizionamento. La parte più ampia della schermata è il body, ed è qui che possiamo rigiocarci gli elementi che abbiamo già conosciuto. Un container, ad esempio, e come child, come un elemento di questo container, prevediamo al momento un banalissimo elemento testuale. Sapete che l'obiettivo è andare verso una minimale forma di login. Mi accorgo ora qua che ho lasciato questo punto e virgola. Salvo e costruisco l'app. Ecco qui, nulla di speciale, ma è un inizio. Un'osservazione. Avremmo anche potuto indicare qua, direttamente, come valore per il parametro home, lo Scaffold che abbiamo appena visto. Però, da un punto di vista architetturale, è nettamente preferibile separare le cose, anche perché crescerà questa parte, ed è meglio isolarla in una sua classe, come abbiamo appunto fatto, e a cui torno. Ora, avrete notato che non è possibile impostare nel widget text aspetti come i margini, il padding. Questo perché, a differenza di altri framework, dove i componenti visuali possono condividere quello che serve a regolare gli aspetti stilistici, Flutter ha un approccio più specializzato. Non è text ad avere margine padding, ma lo potremo regolare incapsulando lo stesso widget all'interno di un altro, che è ovviamente container, che invece offre queste caratteristiche. Iniziamo da una parte che va a complementare quella sul posizionamento dell'ultimo video. Iniziamo col padding, che non è in assoluto per noi una cosa nuova, perché ne abbiamo ovviamente già parlato. Con un edge insets di 16. Forse vi starete domandando perché sempre col padding, non con un margine, che comunque avrebbe allontanato dal bordo il contenuto, la scritta login. Intanto aggiorniamo. Sì, è vero, avremmo anche potuto farlo con margin, però aggiungendo poi un colore di sfondo, vedete, ho aggiunto questo color screen. Questo è l'effetto con il padding. Guardate cosa succede con margin. Poi, ovviamente, dipende dall'effetto che volete ottenere. Adesso per ottenere un test che faccio da header, nel container, come già altre volte ci avete visto fare, invece di mettere direttamente come child un elemento testuale, un bel column, dove il test diventa il primo dei suoi figli, children. Un array di widget. Per il momento solo con questo text. Va da capo perché adesso aggiungeremo un secondo elemento ai children, e cioè questo username. E scritte, però le vedete qua, sono un po' troppo appiccicate. Servirebbe un po' di margine tra i due widget testuali. Di nuovo, come gioco a scatole cinesi, incapsuliamo ogni text all'interno di un container, a cui potremo poi dare un margine. Insert, però, andiamo a regolare soltanto quello inferiore, i soliti 16, e questo test diventa l'unico child del container, di questo container. Diamo un'occhiata anteprima. Spaziatura ottenuta. Ma proviamo a dare un'occhiata al risultato finale, per capire meglio come stiamo costruendo lo scaffolding. Nello scaffold abbiamo messo la app bar e il body, la parte bianca. Qui, dentro il body, un oggetto column, in cui metteremo quattro children. Uno corrispondente alla scritta login. L'abbiamo già messo. Poi, due figli corrispondenti a un oggetto raw, perché dovremmo inserire username e a fianco il campo di input. Quindi, un primo oggetto raw, un secondo oggetto raw, il terzo figlio del column. Infine, come quarto ed ultimo figlio del column, questo login. Ha a sua volta un oggetto raw, anche se di una sola cella, perché sfrutteremo un allineamento di raw sul main axis per spostare, alla fine, posizione end, il bottone login. Mentre il login è solo un titolo, username deve diventare etichetta, più campo di input. E se scegliamo di metterli uno a fianco all'altro, significa aggiungere qua al posto di questo semplice text un altro container, così possiamo regolare il margine, eccetera. E vado anche a capo perché il contenuto sarà più articolato. Si riceve intanto il margine. Poi, come child, un widget raw, perché vogliamo disporre prima l'etichetta username e poi il campo di input in cui scrivere lo username, di cui questo text rappresenta il primo children. Chiudiamo raw, poi dopo sistemiamo il resto. Così. Qui incorporiamo il tutto all'interno e tanto vale copiare questo blocco. New container per dare margine anche tra l'etichetta e il campo di input vero e proprio. Username, naturalmente. e adesso il campo di input. Secondo elemento dell'array dei children di questo raw. E qui introduciamo un nuovo elemento. Lo spieghiamo. Flexible. Child. E il vero campo di input è questo test field. Text è solo un'etichetta, test field è un campo di inserimento. Ora sistemiamo sto errorino. Probabilmente manca quello che chiude i container. generi. Ok. Da Giovanni spiegaci un po' cos'è questo flexible. Allora, qual è il problema? Che il widget raw riesce a capire lo spazio occupato da un'etichetta text. Perché è ovviamente calcolato in base al contenuto che è già stabilito. Login, username. La stessa cosa non è più vera però per una casella di input. Diciamo pure che la casella di input è di solito più lunga del testo che conterrà. Ecco allora che arriva il nostro aiuto flexible che come suggerisce il nome genera un contenitore flessibile che occupa tutto lo spazio che può e che poi dà le corrette informazioni sullo spazio a row che potrà poi svolgere la ripartizione tra i suoi elementi. Replichiamo lo schema anche con la riga per l'etichetta password e il text field password per cui copio tutto questo container questo virgola incollo e questo diventa abbiamo detto la password ed ecco il risultato. Dettaglio importante per una password anche se Giovanni ci avverte che non vedremo la parte di funzionalità fin da subito bottoni, eventi, eccetera intanto che ci siamo mascheriamo la password è un piccolo parametro al costruttore degli oggetti text field e nello specifico obscure text è un boolean true aggiorno andiamo a provare l'inserimento benissimo dai che siamo vicini alla fine manca un bel bottone per confermare il login è il quarto child di column 1 2 3 quindi mettiamoci qui e di nuovo un row non tanto perché dovremo inserire etichetta e qualcos'altro ma solo per poter sfruttare lineamenti in orizzontale che per row è il suo main axis alignment e per il bottone sulla destra row si diceva main axis alignment and tutto a destra children un raised button il suo unico child è il testo che deve apparire sul bottone e guarda cosa succede però se ci fermassimo proprio qui visto il bottone c'è ma è sfumato perché non avendo indicato nulla riguardo a quello che deve capitare quando viene premuto l'effetto è questo comunque buono a sapersi per avere il bottone attivo aggiungiamo allora un secondo parametro al costruttore un po' alla javascript on press che corrisponde sia a tap che a click e qui dovremo mettere un riferimento alla funzione da eseguire al momento non vogliamo fare eseguire proprio nulla per cui ci mettiamo una bella funzioncina anonima neutra però tanto è sufficiente per animare il bottone eccolo qua infine se il video fosse solo mio da pigro probabilmente lo avrete terminato qui ma Giovanni ha una sensibilità da designer molto più spiegata della mia e ciò che ancora lo disturba è l'imperfetto equilibrio di questa schermata per cui obbedisco andiamo nel column a dare un allineamento verticale cioè lungo il main axis per questo tipo di widget verticale appunto e centriamo il tutto così ultimissima osservazione noi abbiamo deciso di utilizzare per formatare le etichette i campi di input degli elementi raw proprio per mostrare il funzionamento di quest'ultimi di per sé avremmo anche potuto fare meno perché password potremmo aggiungere al costruttore del text field un altro parametro con il quale avremmo potuto indicare un'etichetta e il test field l'avrebbe poi gestita in modo tutto suo anche molto gradevole però non voglio anticipare lo vedremo un po' più avanti nella playlist come avete visto nei fumetti qualche minuto fa ho commesso un errore col copia e incolla ho commesso un piccolo errore col copia e incolla di cui però si è accorto Giovanni nel controllo finale e cioè che per le etichette username e password il margine che è stato impostato serve come si diceva nel video a separare lo username come etichetta password come etichetta dai campi di input veri e propri e il margine però non è bottom ma rag sia qui che qui e questo mantiene l'allineamento in verticale tra l'etichetta e il campo di input che io mi ero perso per strada finito ci si risente tutti al prossimo video